21 kg di sostanze stupefacenti complessivamente sequestrati tra Firenze e Roma, 5 arresti e una grossa organizzazione che dall'Olanda faceva arrivare la droga fino al mercato a retino smantellata. Sono in sintesi i risultati dell'operazione Tulipano presentati nel corso di una conferenza stampa dal dirigente della squadra mobile di Arezzo, Isadora Brozzi. Dopo una serie di appostamenti siamo riusciti ad individuare i corrieri che portavano la droga, quindi marijuana e hashish, proprio dall'Olanda e siamo riusciti a bloccarle in collaborazione con i colleghi della squadra mobile di Roma e della Polaria, soprattutto di Fiumicino, ricordo anche Ciampino. Siamo riusciti a bloccare proprio nel momento dello scambio. La droga era portata in una valigia avvolta da degli asciugamani. Un semplice scambio di valigie aveva consentito per parecchio tempo a forti consumatori qui della provincia di Arezzo di usufruire di questa sostanza stupefacente. In manette sono finiti il corriere olandese di 60 anni, quello aretino di origine pugliese di 40 ed il presunto capofila dell'organizzazione, un aretino di 40 anni. Altri due arresti sono stati eseguiti a Firenze. Anche lì siamo riusciti a sequestrare un grande quantitativo, in quel caso 6 chili sui 7, anzi tra hashish e marijuana, mentre volevo ricordare che a Roma veramente il sequestro è stato importantissimo perché a fronte di circa 55 mila euro abbiamo sequestrato un quantitativo pari a 14 chili di sostanza. Questa attività si prolungava, cioè si aveva questa quotidianità nei 10-15 giorni, quindi insomma era importante e fiorente.